Ogni anno gli imprenditori corrono e si scontrano con la burocrazia per rientrare nelle tempistiche corrette di presentazione delle domande del PSR, il pieno di sviluppo rurale e avere la possibilità di accedere ai finanziamenti riponendoci grandi speranze. Ma dopo anni ancora la liquidità non si vede e a questo si aggiungono i problemi causati dal clima con siccità in estate e troppa pioggia o grandine in inverno. Da questa situazione non si salvano neanche gli allevamenti come ad esempio quello dell'imprenditore Agostino Raviolo che con le sue circa 200 mucche e 200 capre sta aspettando ancora di ricevere i finanziamenti PSR per il 2016. Il presidente di Coldiretti Gianluca Boeri si dice sconcertato da questa situazione e denuncia il fatto che i finanziamenti siano pericolosamente fermi e i costi e le spese si sommino di anno in anno. Per Boeri se la situazione non cambierà entro breve molte aziende agricole si troveranno costrette a chiudere. Inoltre il presidente di Coldiretti denuncia il mancato intervento nella strada provinciale che collega San Bernardo di Mendatica a Collegarezzo scendendo poi fino a tre ora, chiusa ormai da mesi per frana che impedisce agli allevatori di raggiungere agevolmente l'alpeggio. Per il direttore di Coldiretti Imperia Domenico Pautasso la GEA, agenzia ministeriale incaricata, deve sbloccare quanto prima i pagamenti legati al PSR. indoltre. Grazie.